Ciao ragazzi, eccomi qua! Andiamo bene, proprio bene! Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Ah sì, ma come cazzo parli? Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni. Ancora c'è il fiato per parlare, ma vada a mangiare la cosa! E il 60% di voi ha meno di 30 anni, soffro di un po' di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Guarda che io a metà degli ho già sputato in faccia, attento fascio che non ce ne metto niente. Per questo ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino. Oh, ma chi te conosce? Ma che sei scemo! Parleremo quindi e discuteremo del vostro futuro. Eh sì, sì, cazzo! Vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un paese che possa darvi nuove opportunità. Non me lo dì, non me lo dì! E la possibilità di realizzare i vostri sogni. In che senso? Vi parleremo di attualità e vi parleremo i punti principali del nostro programma. A me sta voce mi mette un brivido. Soprattutto, voglio ripeterlo, quelli che vi riguardano da vicino come ad esempio la detassazione, la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno. Non ci saranno a pià per culo questi? No! No? No! Amica, mi suona tante a me sta! Quindi, a presto, ancora ciao, su TikTok. Eh no, questa no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa, eh!